Riapre la biblioteca la chiappa libri con una novità. I libri saranno consegnati a casa dei ragazzi dai ciclisti urbani del Movimento Lecce Pedala ogni venerdì pomeriggio e potranno essere restituiti con le stesse modalità oppure in biblioteca su appuntamento. Il servizio è completamente gratuito e per accedervi sarà sufficiente contattare la biblioteca per email o scrivendo sulla pagina Facebook. Tantissime sono inoltre le novità arrivate in questi giorni in biblioteca grazie al contributo all'acquisto del McBank. Il catalogo della chiappa libri è cresciuto in questi giorni moltissimo e non vogliamo che i romanzi per ragazzi, fumetti restino fermi sugli scaffali, ma al contrario vogliamo aprire ad essi le strade della città, favorirne l'accesso e la disponibilità ai nostri ragazzi, dichiara l'assessore alla cultura del Comune di Lecce Fabiana Cicirillo. Con questo servizio inoltre inauguriamo la collaborazione con Lecce Pedala che sostiene e incentiva la mobilità sostenibile e che consegnando e prelevando a domicilio i libri in prestito contribuisce a rendere più sostenibile l'attività della biblioteca e manda un bel messaggio ai ragazzi della nostra città.